Mancano pochi giorni all'8 marzo, giornata dedicata alla donna e si moltiplicano le iniziative sul territorio elbano tese alla valorizzazione del ruolo femminile nel contesto sociale e culturale del nostro tempo. A Portoferraio l'assessorato alla cultura e l'assessorato alle pari opportunità promuovono la seconda edizione del premio Elba Arte Donna 2011 dedicato all'artista elbana Simona Campitelli, scomparsa prematuramente bandito in collaborazione con l'associazione culturale Arte Elba. Per noi è diventato il secondo appuntamento del premio Elba Arte Donna, un appuntamento molto sentito da tutte le artiste professioniste e non del territorio ed è anche molto molto interessante. E fra i vari appuntamenti anche un bel concorso che coinvolgerà proprio gli artisti? Sì, abbiamo nove sezioni di pittura, di arte tessile, abbiamo poesia, racconti. Pensate che sono venute credo una trentina di opere dal continente quest'anno perché le artiste che vengono qui in vacanza e che hanno passione per l'Eba hanno saputo di questo premio e hanno voluto partecipare. Le opere delle varie categorie ammesse al concorso verranno esposte sabato 5 marzo al Centro Culturale dell'Ogea Portoferraio dove la giuria premierà le migliori. Ma non è tutto. Fra gli appuntamenti in cartellone il 6 marzo la presentazione del libro di Angela Gallia e Jacqueline Monica Maggi, Il corpo di una donna per una nuova ipotesi, mentre l'8 marzo la mostra i colori delle donne e la presentazione di un altro libro, Malta femmina, scritto da Maria Gisella Catuonio e Alessandra Palombo. Tutto alla Gran Guardia.